35 anni che si ripete e ogni volta c'è grande attesa per il premio culturale di Larino dedicato a Bartolomeo Preziosi che individua gli studenti migliori della città, quelli che si sono distinti nel percorso di studio, alunni speciali anche per le doti umane. Dieci in tutto i ragazzi premiati tra le scuole medie e gli istituti superiori tra agrario, geometra e liceo. Si tratta di Angelo Margolicci, Federica Rosa, Isabella Maselli, Toni Pirci, Lorenzo Spidaliere, Mari Caritucci, Anastasia Graduato, Giuseppe Mentore, Carla Rosa D'Ambrosio e Maristella Romualdi. La premiazione c'è stata nella sala consigliare di Larino, si tratta dell'iniziativa culturale più importante della città. Come tutti gli anni questa iniziativa molto importante, interessante, si ripete e premia i ragazzi che hanno dimostrato un impegno negli studi, anzi un'applicazione e un amore verso lo studio che in questo periodo forse manca un po'. Bartolomeo Preziosi era un facoltoso cittadino di Larino che amava le arti. Quando morì lasciò la sua grande e ricca biblioteca alla città di Larino, insieme a una somma di denaro da destinare proprio alle borse di studio, somma che negli anni si è esaurita, ma il Comune ha deciso di portare avanti l'iniziativa. I ragazzi vengono premiati con una somma di 250 euro. Quest'anno il premio aveva come tema centrale la Costituzione. Il tema che l'assessorato alla cultura di Larino ha messo in campo e ha dato a noi la possibilità poi di elaborarlo è la Costituzione come base per una democrazia e per la democrazia di ogni popolo civile. Quindi ognuno di noi, il nostro piccolo, ha cercato di portare all'attenzione di questa platea, una platea giovane, una platea che forse di Costituzione sa soltanto sui libri di scuola, ma poi gli effetti pratici non si rende conto degli effetti che la Costituzione ha in uno Stato democratico.